Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Tagliafico per il Napoli, ex allenatore, interesse concreto, così è saltato. Il PM coinvolto in quella trattativa racconta in retroscena qualche anno dopo. Nicolas Tagliafico avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli. Lui, argentino di nazionalità e grande tifoso di Maradona, avrebbe coronato un sogno se le cose fossero andate diversamente. Riccardo Schlipper, ex agente dell'esterno sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Sport Italia. C'è un bel gruppo di giocatori argentini in rampa di lancio in vista del prossimo mercato. Rettigui, Villiz, Alan Varela, Giai, Barco, Valentin Gomez tra gli altri sono talenti che sicuramente sono finiti nel mirino degli scout. Su Tagliafico Napoli in particolare, Nicolas è già stato molto vicino a qualche club italiano. Nell'inverno del 2022 abbiamo parlato con il Napoli. L'interesse era reale e concreto, ma poi il Napoli ha cambiato idea ed ha escluso l'operazione. Non perdere altre offerte o notizie sul Napoli. Iscriviti ora al nostro canale di notizie e rimani aggiornato su tutto ciò che accade con il team. E se ti piacciono i contenuti che produciamo, metti mi piace ai video per aiutarci a raggiungere più persone interessate al Napoli. Unisciti a noi ed entra a far parte di questa comunità appassionata del club.